ciao valterino bentornato o seguite me o io seguo voi come com'è la storia stasera ci sei tu in console è la serata di halloween e c'è lo spettacolo del principe morisse com'è lavorare con un artista come lui è un onore è un onore perché io sono un suo fan e quindi lo seguo da tantissimi anni è sempre piaciuto quello che fa e speriamo che lo faccia ancora pertanto nei locali uno pensa ad halloween subito gli viene in mente la canzone thriller di michael jackson cosa pensi che la sua scomparsa abbia lasciato nel mondo della musica beh ha lasciato il segno in tutto il mondo sicuramente oggi può essere un modo anche per ricordarlo in questa in questa festa con appunto con thriller credo che sia l'anno scorso due anni fa c'era il suo venticinquesimo quindi un buon motivo per ricordare un grande artista era del pop quindi un bella un bel giorno per ricordarlo ciao carmen bentornata su enjoy television ciao a tutti allora stasera è la serata di halloween quindi innanzitutto complimenti per la serata che una bellissima serata poi abbiamo visto uno spettacolo stupendo del principe morisse secondo te cosa dà di più uno spettacolo del genere al pubblico beh sicuramente è una cosa straordinaria il fatto che venga riportata un tema un animazione teatrale appunto vissuta in discoteca a volte appunto si vedono queste cose a teatro però rivedere delle performance in 15 minuti che magari andresti a vedere in due ore a teatro è una cosa sensazionale crea dell'atmosfera veramente insolite dove la gente rimane sbigottita direi allora iniziato da poco il gf voi che ospitate sempre personaggi mediatici secondo te qual è il personaggio che avrà più successo non saprei proprio anche perché iniziato da poco io purtroppo non lo seguo molto noi ci siamo orientati più che su ospiti mediatici su della buona musica su dj ad esempio stasera avevamo brogio c'è per esempio mazzetto naccia tommy vi diciamo tutti di calibro insomma di un certo livello anche perché noi vendiamo musica e quindi vediamo che la gente apprezza di più il sentire dell'ottima musica o delle performance tipo quelle del principe moris anziché vedere un ospite che magari sta un'ora a firma degli autografi poi scappa via che magari ormai è una cosa che ha un po stancato a mio avviso è iniziata la soggiore invernale quindi dacci qualche chicca qualche anticipazione per quanto riguarda i prossimi appuntamenti allora i prossimi appuntamenti sicuramente il 13 novembre con il tredicesimo anniversario del Mascara tredici anni di musica divertimento con ospiti le straordinarie veline da strisciano notizia mega torta per tutti quindi vi aspettiamo e poi ci accingiamo al natale al capodanno e via via appunto delle feste al 7 dicembre ci sarà una straordinaria festa da anni 80 90 con ospiti internazionali non dico ancora i nomi perché al momento non li so quindi è meglio non dire le cose se non si sanno subito e niente quindi vi aspettiamo numerosi le nostre serate a proposito di capodanno ormai ha quasi soppiantato capodanno cosa ne pensi? ma più che capodanno direi che è diventato il nuovo carnevale ormai il carnevale è sempre meno sentito mentre Halloween è questa festa americana che ormai ce ne siamo appropriati ce la siamo fatta nostra la gente proprio l'attende ha voglia anche nei bambini piccoli addirittura veramente questo dolcetto scherzetto io ho una bambina piccola che è due settimane che mi dice mamma ma come mi devo vestire ad Halloween proprio la gente ha voglia di uscire e divertirsi cosa che capodanno è una cosa un po' scontata si va perché bisogna fare il brindesi il carnevale ormai è proprio scomparso abbiamo visto proprio che Halloween negli ultimi anni ha preso proprio sopravvento su ogni festa direi che ad Halloween escono proprio tutti grazie di tutto ci rivediamo presto spero sempre sui giorni television sempre qua al Mascara grazie a tutti